ben trovati e grazie per la linea anche oggi nella nostra piccola rubrica dedicata ai social vogliamo presentarvi la pagina di youtube mentre la scorsa puntata vi abbiamo ecco informato su come seguire le nostre pagine facebook quest'oggi ci dedichiamo invece alla pagina di youtube la nostra pagina è possibile trovare attraverso appunto il social youtube padre pio tv è molto semplice ed è molto intuitivo per tutti è una pagina molto ricca dove sono presenti tutti i nostri video che vengono trasmessi dalla nostra emittente televisiva e anche naturalmente le dirette c'è la possibilità di rivedere insieme tutte le puntate che magari vi siete persi di alcune rubriche o programmi basta cliccare su su playlist attraverso questa pagina potete ricercare tutti i programmi ma nella home ogni pomeriggio alle 17 e 30 c'è la possibilità di partecipare al santo rosario e alla celebrazione eucaristica invece domani vi ricordiamo l'appuntamento sulla pagina facebook vocazioni padre pio alle 18 e 30 in diretta da manfredonia per la professione di fra gialluca come vedete in questa immagine e domenica prossima 13 novembre ci sarà la giornata mondiale dedicata ai poveri con la tematica gesù cristo si è fatto povero per noi tre sono i percorsi e uno è molto importante proprio quello di assumere la solidarietà come forma di impegno sociale e cristiano proprio per questo vi invitiamo a visitare il sito mensa san pio da pietrelcina punto it la mensa dei poveri dei confratelli di padre pio che è presente a foggia dove ogni giorno viene data la possibilità a più di 100 poveri di assicurarsi il pranzo proprio per questo potete visitare ecco ve lo ve lo indico mensa dei poveri san pio da pietrelcina punto it detto questo si conclude il nostro spazio e prima però vi voglio ricordare come vedete in sovraimpressione il numero whatsapp il nostro numero dove appunto avere tutte le informazioni relative al palinzesto ma anche a tutte le iniziative e gli eventi del santuario alla prossima puntata